e da qualche parte un secondo me che ha deciso di creare la cosa simbolare è che a volte l'insegno viene tracciato a 60 km per lo spero, un po' di grado per chi ha avuto la visione hai mai assistito a tre ore di insolito? mi ha fatto dare un cerchio? si, vieni, ci sono tre, possono fare spera di luce spera di luce? si, spera di luce, una volta ci ha perseguiti da tutto il campo era come se fosse uno del posto sbagliato, non riuscivamo a fare il cerchio come lo speriamo? è stato troppo strano all'inizio pensavamo fossero i contadini c'erano tre sfere all'interno del campo siamo scappati subito per farci prendere poi per oggi è venuto in mente